Sono grato per questa presentazione così affettuosa, che però mi permette, proprio per il ritratto che è stato fatto, di avere qualche emozione nel dover parlare questa sera con voi, davanti a voi, non solo per questo contesto, contesto straordinario che emoziona sempre, ma anche perché effettivamente io non sono un dantista, non sono uno studioso di Dante, sono soltanto un appassionato, come lo sono molti di voi. E io questa sera vorrei confrontarmi con lui soltanto a livello di teologo con un teologo, perché Dante, soprattutto in questo canto, il canto ventiquattresimo del Paradiso, si rivela come teologo. Lo vorrei fare in una maniera un po' particolare, naturalmente non facendo, proprio perché non sono un esegetta dantesco, facendo l'esegesi del testo, un testo peraltro molto arduo. L'invito è proprio a riprenderlo in mano, soprattutto dopo che l'avrete ascoltato attraverso la voce, il calore, l'intensità di Gioele Dix. Perché merita di essere naturalmente seguito, perlustrato nei suoi percorsi, che sono, come ho detto, tutt'altro che semplici. Sono dei veri sentieri d'altura. E allora, proprio perché la mia non è una lettura testuale, in senso stretto, vorrei delineare davanti ai vostri occhi il modo con cui procederò. Vorrei all'inizio, sarà come muovermi nell'interno, per usare sempre le immagini artistiche, di un trittico, vorrei muovermi nella prima tavola, in maniera libera, personale, cercando di proporre, o di, se volete, di commemorare questi 750 anni, 50 anni, questo anniversario, questo compleanno particolare di Dante, nella sua città. La seconda parte sarà dedicata ad alcune domande e risposte che Dante dà, le domande sono di San Pietro, come sapete, dà a questo esame. Egli è realmente esaminato sul tema della fede, sul tema della teologia. E da ultimo vorrei che ascoltassimo, sempre partendo da questo canto ventiquattresimo, la sua professione di fede. Qui nel bel San Giovanni, io direi, potremmo proprio idealmente immaginare che egli proclama il suo autoritratto di credente, perché Dante è indubbiamente un grande credente. Cominciamo quindi con la prima tavola di questo trittico. In apertura vorrei mettere, però, siamo a Firenze, vorrei mettere una battuta di un altro grande, idealmente legato, profondamente legato a Firenze, Michelangelo, che era anche un ottimo poeta, tra l'altro, e scrittore, che di Dante disse, simil uomo, né maggior, non nacque mai. E devo dire che Curzius, Ers Curzius, questo non l'archeologo, ma lo studioso del Medioevo, diceva, la figura di Dante sovrasta i secoli. Ecco, io proprio partirei proprio da questa immagine, ma la ritrascrivo per questa prima tavola, ripeto, ancora commemorativa. La trascrivo ricorrendo a uno scrittore che mi è caro, e che è caro anche a Papa Francesco, perché l'ha conosciuto lui, personalmente. Ha avuto, anzi, ha condotto una volta, quando Papa Francesco era Bergoglio, era professore a Santa Fe, ha avuto l'occasione di vivere insieme una settimana con lui e coi suoi alunni. Questo scrittore è, evidentemente, Jorge Luis Borges, innamorato di Dante, non dantista, ma forse interpreta ancora più originale. Ebbene, lui usava questa immagine che è un po' la ripresa di quella di Curzius, se volete. Dante vive sempre e parla su un crinale, un crinale tagliente, quelli che tagliano quasi il cielo, guardandoli dal basso, per cui lui è uno dei pochi, se non forse quasi l'unico, che riesce a vedere contemporaneamente tutte e due i versanti. Il sole lo illumina dall'alto e illumina i due versanti, per cui per lui non c'è un versante in ombra. E io qui vorrei soltanto evocare questa capacità di stare, di comprendere gli antipodi di Dante attraverso solo alcune evocazioni. Per esempio, pensiamo alla sua euritmia mirabile tra poesia e speculazione. Poesia purissima e speculazione raffinata, fin sofisticata, teologica. Pensiamo da un lato alla sua straordinaria creatività. Un genio poetico assolutamente unico, però al tempo stesso anche la sua straordinaria obbedienza alla tecnica, all'endecasillabo e alla rima, con le loro rigidità. Io dico sempre qualcosa di simile che in musica è accaduto a ben pochi. Pensiamo a Bach, massimo della creatività e massimo della tecnicalità. Ancora, pensiamo a questa sua straordinaria capacità di essere, questa interazione unica tra l'astrazione tematica, il veleggiare nei cieli della trascendenza e la parola che è dipinta. Pensiamo, per esempio, all'antipurgatorio, una schiera di anime che avanzano. Ecco il suo dipinto. Come le pecorelle escono dal chiuso a una, a due, a tre, e l'altre stanno, timidette, atterrando l'occhio e il muso. E ciò che fa la prima e l'altre fanno, addossandosi a lei se la s'arresta, semplici e quete. E fin qui abbiamo un ritratto delizioso, pastorale. Ma guardate, alla fine, l'artiglio del genio. E non perché non sanno. A differenza dell'umanità che sa, e che soffre anche. Potremmo continuare a lungo, proprio in questa sorprendente capacità di stare negli equilibri armonici tra una sorta di arcobaleno, è in Dante, tra la storia e la trascendenza, tra la carnalità e la spiritualità, tra la contingenza e l'eternità, tra l'epifania e il mistero, tra il peccato e la grazia, tra la tragedia e la gloria, tra la cronaca e la profezia, tra la giustizia e la salvezza. Io vorrei però, sempre nell'interno di questa prima tavola, tentare anche di trovare forse un filo, è un'arditezza questa, un filo conduttore, nell'interno di questa, che è la simbolicità di Dante, nel senso etimologico del termine, come ben sapete, simbolon, simballe, inno, si dice sempre, mettere insieme gli estremi. Ebbene, io vorrei idealmente trovare una traiettoria, questa traiettoria che regge l'intero itinerario terrestre, infernale, celeste di Dante, è, a mio avviso, il transito, Paradiso 31, io non farò le citazioni per non disperdere il discorso, il transito all'eterno dal tempo, o se volete, ricorrendo a un'altra, Inferno XV, quindicesimo, mostrare come l'uomo s'etterna. Vedete proprio i due poli estremi, in lui si congiungono e si congiungono nella creatura umana. Ed è per questo che allora è fondamentale la figura di Cristo, in cui Dante, tra l'altro, proprio nel trentatresimo, si rispecchia, del cui volto si rispecchia. E qui io vorrei prendere dal Paradiso, 31 invece, vorrei riprendere quell'elemento che ha conquistato per esempio Borges, col quale concludo questa prima tavola. E' il pellegrino che va in San Pietro per contemplare il velo della Veronica e si interroga. E questa è una domanda esistenziale per Dante, fondamentale per tutti i credenti. Signor mio, Gesù Cristo, Dio verace, or fu sì fatta la sembianza vostra? Era così il tuo volto? e Borges dà la risposta, pensate, proprio intitolando questo testo, Paradiso, 31, 108, che è il verso che io vi ho letto. Nell'artefice, risponde a questa domanda. Badate bene come risponde. Perché Dante, eh sì, Borges, dà una sua interpretazione. Qui ecco, è anche la funzione tipica che si dice, ogni grande artista non è, ogni grande scrittore non è solo ciò che egli è e ha scritto. È anche la tradizione, il lettore, che da lui ha acquisito e ha fatto fiorire il testo stesso. e l'idea adesso, io ve leggerò questo breve brano di Borges, ma l'idea fondamentale sua è questa, voi volete sapere esattamente, dato che noi non abbiamo il volto di Cristo, nei Vangeli non è descritto, non l'abbiamo, il problema della sindone, poi tra l'altro è una questione anche discussa, poi la certezza non la possiamo avere. Ebbene, qual è invece, secondo Borges, un vero volto di Cristo e lui dice un tratto, qualche tratto dei lineamenti di quel volto, badate bene questa idea, che è veramente geniale, si nasconde in tutti gli specchi. Negli specchi che volto c'è? C'è il nostro volto. E questo è profondamente evangelico, se è vero che Cristo che ha detto che sarà tutto quello che si fa a uno degli ultimi dei miei fratelli, lo fate a me. Sentite, nello scritto l'argentino, abbiamo perduto quei lineamenti, come si può perdere un numero magico fatto di cifre abituali, come si perde un'immagine nel caleidoscopio. Possiamo scorgerli e non riconoscerli. Il profilo di un ebreo nella ferrovia sotterranea è forse quello di Cristo, le mani che ci porgono alcune monete a uno sportello, forse, ripetono, quelle dei soldati che un giorno lo inchiodarono alla croce. Ed ecco la conclusione. Forse, però, un tratto del volto crocifisso si cela in ogni specchio. Forse, quel volto morì, quel volto si cancellò affinché Dio sia tutto in tutti. E qui Borges cita prima Corinzi 15-28. Quindi l'interpretazione paolina. Bene, veniamo ora al cuore. Seconda tavola, la tavola centrale, come in un trittico, naturalmente, la parte più importante. E qui abbiamo, nel canto ventiquattresimo del Paradiso, come sapete, l'esame di fede, che è il primo di tre esami a cui viene sottoposto Dante, perché poi sarà interrogato sulle altre due virtù teologali. Dopo la fede ci sarà la speranza e poi la carità. Se Pietro lo interroga sulla fede, Giacomo sulla speranza, Giovanni lo interrogerà sulla carità. Siamo sotto la volta del cielo stellato. Ecco, questi 154 versi che poi Gioele Dix ci offrirà ed è veramente un'impresa, credo, lo dobbiamo ammirare per aver scelto, accettato, perché è facile fare, adesso è facile relativamente fare il trentatresimo perché Benigni ormai sa farlo come ben sappiamo, l'ha appena rifatto anche davanti a me 15 giorni fa in Senato, ma fare il ventiquattresimo, proporre, perché l'attore propone un testo, lo interpreta, lo legge, quindi 154 versi originali e così complessi non è facile anche perché una commentatrice fiorentina mi pare, credo, di Dante, Anna Maria Chiavacci Leonardi, sottolineava che questa pagina è significativa perché non è più la teologia e tutta la Divina Commedia è sempre piena di teologia, ma la teologia è sempre esposta da altri, da altri personaggi, al negativo al positivo, qui invece scriveva la Chiavacci Leonardi, scriveva questa la fede, la teologia diventa un fatto personale, la ragione stessa della vita di chi parla, quindi è lui in maniera autobiografica che si presenta e ancora un'altra cosa diceva ed sarà anche la strada che io prendo per fare questa breve sintesi di questo canto difficile, si fa notare da parte degli esegeti danteschi che questo è un testo drammatico, cioè a un impianto accanto a mebeo, cioè a dialogo, è un dialogo fatto di domande e di risposte che in queste domande intercorrono tra Dante e il gran viro a cui il nostro Signor lasciò le chiavi, Pietro e i temi sui quali sarà interrogato sono e anche questo può passare via per chi non sa la teologia come se fosse una frase qualsiasi, invece Dante fa riferimento che conosceva bene la teologia alla scolastica sarà interrogato sulle questioni lievi e gravi del credere e qui noi sappiamo nella scolastica che c'era la distinzione tra i levia e i gravia sia per quanto riguarda l'etica ma anche per quanto riguarda lo spessore della dogmatica bene fatta questa premessa se volete entriamo anche noi nell'aula celeste fattasi silenziosa ove Dante emozionato lo dice lui stesso è davanti al sodalizio eletto all'accolta dei santi e soprattutto al suo esaminatore l'apostolo Pietro io sceglierò ora quattro domande riassumerò in quattro domande quattro punti cardinali e quattro risposte la prima è la domanda di base radicale fondamentale fede che o ancora se volete qual è la sua quidditate il suo quid contenuto la sua essenza e Dante risponde con una definizione biblica Dante è un grande conoscitore delle scritture nella naturalmente nella versione della vulgata e di fatti lui risponde ricordando quella citazione che è tradotta da lui che è quella però della vulgata di ebrei 11.1 la lettera agli ebrei la lettera agli ebrei nella vulgata dice seguite il latino che è un latino molto trasparente est autem fides sperandarum substanzia rerum sperandarum rerum substanzia argumentum non apparentium ecco Dante che dice fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi tradotto alla lettera ecco questa è la sua risposta e vedete che la sua risposta ha dell'interno due termini fondamentali sostanza e argomento sostanza nel greco originario è ipostasis ed è il contenuto della fede la fede ha un contenuto una sostanza non è una vaga adesione poi vedremo che si verrà precisato ulteriormente questa categoria questa componente ma secondo dice la fede è anche argomento è anche dimostrazione ha una sua logica interna che non è quella se volete della scienza che non è quella di altre discipline ma deve avere una sua coerenza adesso i teologi dicono in maniera più sofisticata la teologia la fede ha un suo statuto epistemologico proprio un suo metodo argomentativo e Dante usa un'espressione è il suo silogizzar silogizzar che è nel cuore stesso del credere passiamo alla seconda domanda ma qual è la base sulla quale esercitare questa ricerca argomentativa della fede così che noi possiamo avere la rivelazione delle cose sperate dove noi troviamo la base per fare la sostanza e l'argomento e l'argomentazione e la risposta di Dante è come ovvio per un teologo la base nostra è la parola di Dio la parola di Dio che è presente in su l'espressione non è subito perspicua in su le vecchie e in su le nuove cuoia cosa sono le cuoia pergamene l'antico e il nuovo testamento al loro interno dice Dante deve svilupparsi l'analisi teologica il sillogismo e questo sillogismo questo si svolge attraverso una dimostrazione dice Dante che non è quella la dimostrazione normale la dimostrazione strettamente razionale che Dante definisce con un termine dice se noi dovessimo usare la dimostrazione normale razionale essa in questo orizzonte si rivelerebbe ottusa cioè spuntata debole a questo punto possiamo passare alla terza domanda quindi la prima era il contenuto della fede che cos'è la fede fede è sostanza ed argomento secondo dove abbiamo questa sostanza nella Bibbia nelle cuoia antiche e nuove terzo elemento chi ci assicura che veramente queste cuoia contengano la parola di Dio la divina favella come dice lui e qui Dante risponde evidentemente la teologia attuale è molto più sofisticata ma lui dice risponde è l'apologetica che ce lo dice cioè sono i miracoli sono le opere seguite a quella divina favella i miracoli che costellano le scritture che hanno confermato la parola di Cristo elementi come vedete che trascendono le leggi della natura quindi non possono essere dimostrati con la dimostrazione ottusa hanno bisogno di un altro livello sempre però sono questi i miracoli la grande prova dell'autenticità della parola di Dio ed eccoci allora a questo punto alla quarta e ultima domanda e risposta come chi ti assicura dell'autenticità storica di questi eventi miracolosi e qui Dante dimostra di conoscere l'argomentazione di Agostino e poi della scolastica anche successiva supponiamo anche che questi miracoli non si possano dimostrare però ce ne esiste uno che è indiscutibile per tutti ed è il prodigio della conversione dell'intero mondo pagano avvenuto attraverso la predicazione di un pugno di persone deboli e marginali come era lo stesso Pietro povero di mezzi economici dice povero e digiuno digiuno di cultura questi sono quattro degli argomenti in un'argomentazione molto più complessa come avete occasione di sentire vedete che Dante cioè cerca in un certo senso di ricordare e lo vedremo subito di ricordare che la teologia ha una sua dignità ha un suo statuto proprio ha delle sue argomentazioni e queste argomentazioni esigono un approfondimento e ora Dante che ha superato la batteria delle domande del suo esame di fede è in silenzio e il silenzio celeste viene infranto da un solenne tedeum verso 113 tedeum ma il sipario non cala qui su questa scena fino a questo punto sostanzialmente accademica anzi c'è uno sviluppo ulteriore grandioso nel testo Dante è invitato da Pietro a professare il contenuto della sua fede ed egli lo fa attraverso il suo credo un credo che deve dice Dante intrecciare le due dimensioni della fede e badate che qui ogni parola anche se sembra ovvia ogni parola sono i versetti 122 123 significativa tu devi dice Pietro a lui espremer quel che credi quel che credi e onde alla credenza tua sofferse cioè Dante deve essere sempre consapevole che credere vuol dire da una parte avere sapere il contenuto quel che i teologi dicono fides que il contenuto della fede però devi anche conoscere la onde alla credenza tua devi anche dimostrare la tua adesione personale la tua passione il tuo essere pronto ad accogliere questo messaggio e qui è quello che i teologi chiamano la fides qua la fede con la quale noi crediamo la fiducia ed è per questo vedete che paradossalmente noi l'italiano su questo è molto significativo ma non solo l'italiano su questo come si definisce colui che ha la fede il credente che è un participio presente un participio presente che suppone credere in qualcosa ma vedete il participio presente non è né passato né futuro è continuo è un atto vede di adesione che bisogna continuativamente esprimere ed ecco che allora a questo punto e siamo alla terza tavola la tavola del credo di Dante il credo di Dante è composto la terza è ultima poi faremo una conclusione è composto di due articoli di fede il primo riguarda la creazione il dio unico creatore ma anche qui si vede veramente la genialità in una frase brevissima come egli riesce ad esprimere questo messaggio unico creatore che tutto il cielo muove non moto con amore e disio non so se avete capito quanto è importante questo gioco perché abbiamo da una parte la concezione tipicamente filosofica la creazione può essere dimostrata anche attraverso la filosofia e allora abbiamo la formulazione aristotelica il motore immobile sentite il cielo muove non moto ma dall'altra parte subentra tutta la dimensione cristiana la personalità del dio biblico fa questo come con amore e disio tra l'altro è interessante notare che la trilogia di queste parole muove amore disio aprono uno canto uno versetto uno e chiudono trentatresimo centoquarantatré centoquarantacinque il paradiso queste tre parole muove amore disio e quindi abbiamo le due la riflessione filosofica aristotelica da una parte la visione personalistica cristiana questo è il primo articolo di fede che ancora ripete che io conosco noi conosciamo attraverso la ragione in questa verità perché ho detto aristotele e allora dante dice conosciamo attraverso prove fisice et metafisice e fin qui abbiamo il motore immobile ma io conosco anche lo conosciamo in un'altra maniera il dio creatore e allora lui dice ma lo conosciamo anche per Moise per profeti e per salmi per l'Evangelio e per voi che scriveste gli apostoli le lettere apostoliche il nuovo testamento è antico secondo articolo di fede secondo articolo di fede è trinitario credo in tre persone eterne che sono una essenza si una e si trina e qui dante con l'originalità sua cerca di spiegarne questa bipolarità tra unità e trinità attraverso la grammatica e dice è curioso dice ma per dio il dio cristiano noi possiamo usare sia badate bene il sono sia l'este cioè sono la terza persona plurale esse sono ma possiamo usare anche le este la terza singolare in maniera indistinta poi più avanti sappiamo nel trentatresimo parlerà di tre arcobaleni e qui dante usa nell'interno del nostro per esprimere questo mistero il gioco vedete della unità e della diversità molteplicità ricorre all'immagine della luce ed è interessante notare che qui parla lui della favilla di luce una scintilla di luce che si dilata in fiamma poi vivace fino a diventare come stella in cielo che in me scintilla perché vi cito questa bellissima immagine peraltro vedete la luce che prima brilla diventa fiamma poi diventa stella e poi entra nel cuore e anche una luce interiore perché questo forse non lo sapete non avete badato se avete letto questo testo nella prima enciclica di Papa Francesco la Lumen Fidei egli è ricorso con l'aiuto credo anche di Benedetto che amava molto sapete che la prima enciclica in pratica è stata un po' cumulativa che amava molto Dante lo cita spesso nell'interno della sua introduzione al cristianesimo per esempio ecco cita proprio questo passo sono i versetti 145 147 del 24 per parlare della Lumen Fidei la luce della fede è proprio questa luce vedete che scintilla favilla diventa fiamma diventa astro stella e brilla in me ecco io a questo punto concludo e vorrei dire in finale ancora quasi riprendendo il punto di partenza vorrei soprattutto ricordare la figura di Dante come credente come teologo l'unica che mi permette di poter interloquire con lui perché naturalmente la grandezza della sua poesia esige una strumentazione straordinaria che io non ho pur essendo appassionato lettore anche di Dante anche attraverso i commenti io vorrei ora citare una un grande filosofo dell'ottocento grande credente anche luterano Sören Kierkegaard danese ha dedicato un testo bellissimo timore e tremore a una pagina drammatica della Bibbia Genesi 22 quello della prova di Abramo il paradigma del credere dice ed egli lo vede come il vertice del credere libero che non si fonda più su nulla non sulle argomentazioni dei teologi non si fonda neppure sulla stessa promessa di Dio perché il figlio Isacco te l'ha dato lui e tu devi eliminarlo quindi Dio smentisce se stesso un Dio amato e crudele e quindi il credere ha in sé questo aspetto di drammaticità Dante su questo è un altro ancora un maestro per mostrare come credere sia un'impresa ardua ebbene nell'interno di questo libro Kierkegaard dice che la fede è la più alta passione dell'uomo ci sono forse in ogni generazione molti uomini che non arrivano fino ad essa ma soprattutto dice nessuno va oltre la passione suprema il credere ed è per questo che il poeta non esita Dante a presentarsi come colui che vive questa passione alta e profonda e nel convivio lui dice che tante volte convive questa luce con ombra di oscuritade eppure in questo canto lui dice io questa fede l'ho attenzione che non è facile questo verso lo sentirete due versi sono in verità un disco si ho si lucida e si tonda questa fede che nel suo conio nulla mi si inforza che cosa vuol dire l'immagine che ha usato prima è quella della moneta sentirete la moneta che è il tesoro prezioso che viene evocato da Pietro lo sentirete nel testo ebbene lui dice di averla la fede lucida e tonda brillante brillante e perfetta così che il suo conio è così autentico che non può mettere in forse nulla si inforsa che nel suo conio nulla mi si inforsa nulla è in forse tanto egli è orgoglioso di proclamare questa sua di presentare questa sua moneta della fede con questo suo tesoro consapevole però come diceva là che c'è ombra di oscurità oscurità ebbene io finirei a questo punto con come ho iniziato dando voce a un commentatore appassionato di Dante così adesso ne prendo un altro che è collegato alla mia funzione però attuale come è stato ricordato all'inizio la mia funzione di essere parte della struttura della chiesa cattolica per quanto riguarda la santa sede e quindi di essere immediatamente in collaborazione al servizio del pontefice di un papa tra l'altro sulla fede di Dante si potrebbe anche dire sulla libertà della fede di Dante per esempio ebbene io qui vorrei ricordare allora mi permetto di ricordare i papi che hanno parlato di Dante sono tanti c'è stato un papa persino che ha scritto un'enciclica intera su Dante Benedetto XV non è un capolavoro come enciclo però è sicuramente una invece uno che ha vissuto letto molto e che è stato molto conquistato da Dante è stato oltre come diceva anche Benedetto XVI ma nei suoi scritti ufficiali Paolo VI testo io quando sono stato dieci giorni fa come ricordavo quindici giorni fa in Senato a commemorare ufficialmente davanti al presidente Mattarella a commemorare questi settecentocinquant'anni ho portato il messaggio che il papa ha indirizzato a me perché lo comunicassi all'assemblea riunita e questo testo molto ampio di papa Francesco il presidente Mattarella mi diceva proprio ecco questo è forse il suo testo su Dante sarà perché poi non avrà più occasione di interessarsi di Dante ha però il suo cuore in Paolo VI Paolo VI scrisse alla vigilia della chiusura del concilio 7 dicembre 1965 una lettera apostolica intitolata Altissimi Cantus nella quale celebrava Dante nostro è Dante nostro diceva della fede cristiana della religione cristiana però nell'interno della citazione che fa Papa Francesco c'è una componente che è un invito che io lascio a tutti voi questa sera e che è nello spirito anche di tutti i grandi capolavori come si dice tecnicamente i grandi capolavori letterari ma tutte le grandi opere d'arte non sono fine a se stesse non sono informative sono performative hanno lo scopo di provocare hanno lo scopo magari anche di far reagire negativamente ecco Dante ha scritto la commedia anche se le espressioni che usa forse Paolo VI sono molto più semplici ha scritto la commedia proprio con una finalità che è di sua natura direi quasi come quella di un seme di un messaggio esplosivo che deve lasciare delle tracce non si può uscire indenni dalla lettura della divina commedia di un canto della divina commedia è un testo offensivo anche è un testo che artiglia che fa sanguinare come le scritture sacre e non per nulla l'Antico Testamento quando il Tinco è il Nuovo Testamento quando devono descrivere se stessa la parola di Dio usano sì anche l'immagine del miele e dell'acqua ma usano immagini anche aggressive è un Geremia un martello che spacca la roccia è una fuoco ardente che brucia le ossa è una spada che ti trapassa non soltanto la pelle ma anche entra fino all'osso al midollo ecco la stessa cosa Paolo VI la ricorda per la commedia il fine della commedia è primariamente pratico e trasformante non si propone solo di essere poeticamente bella e moralmente buona ma in alto grado di cambiare radicalmente l'uomo e qui ritorniamo al mio punto di partenza come l'uomo setterno e di portarlo dal disordine alla saggezza dal peccato alla santità dalla miseria alla felicità dalla contemplazione terrificante dell'inferno a quella beatificante del paradiso e lo stesso Paolo VI nella sua letta in questa lettera cita un'affermazione del poeta nella lettera che il poeta indirizza can grande della scala il fine del tutto e della parte di un capolavoro di un'opera e togliere dallo stato di miseria dice Dante i viventi in questa vita e condurli allo stato di felicità grazie grazie